Il tragico sbarco sulla costa di Selinunte, sospese a causa del forte vento di Scirocco, le ricerche di eventuali ulteriori vittime, oltre alle 5 già rinvenute, una sessantina alle persone a bordo del natante che ad un certo punto si è inclinato. Sanità proseguono i preparativi in vista del sit-in di protesta per l'ospedale di Sciacca in programma il 10 novembre. Intanto per i servizi di ortopedia e cardiologia il Giovanni Paolo II figura Trenoso come i più apprezzati d'Italia. Il Vera nuovo attacco all'amministrazione da parte dei deputati di Forza Italia Gallo e la Rocca Ruvolo, ma anche da parte della deputata Savarino di Fratelli d'Italia, partito del sindaco Ruvolo, che replica sono i soliti attacchi ad orologeria. Politica Giuseppe Midioti, già commissario del partito a Sciacca e il coordinatore cittadino della democrazia cristiana. Un partito che si colloca all'opposizione, ma vogliamo essere costruttivi come avvenuto con il bilancio, dice Midioti. Commemorazione dei defunti in vista della ricorrenza del prossimo 2 novembre. È stata effettuata la scerbatura all'interno del cimitero e la pulizia che da circa un mese viene svolta settimanalmente, nuova viabilità nella zona. Sport Calcio torna alla vittoria all'unitas Sciacca 3-1, risultato della sfida di ieri a porte chiusa il Gurrera contro il Castelbuono, con reti di Concialdi, Secan e Iraci. Neroverdi adesso vicini alla zona play-off. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Sono state sospese a causa del forte vento di Scirocco le ricerche di eventuali e ulteriori vittime oltre le cinque già rinvenute del tragico sbarco di migranti sulla costa di Selinunte la notte tra venerdì e sabato. Una sessantina le persone a bordo, il natante ad un certo punto si è inclinato e gli scafisti hanno ordinato ai passeggeri di scendere il punto in questo servizio. Per il forte vento di Scirocco che da stanotte soffia nel mare mediterraneo, stamattina sono state sospese le ricerche in mare di eventuali migranti dispersi nello sbarco di venerdì notte a Marinella di Selinunte. Per il mare agitato i mezzi della guardia costiera e i vigili del fuoco non potranno più perlustrare la zona di mare dove l'imbarcazione si sarebbe inclinata. Le ricerche continueranno a terra lungo l'arenile tra la foce del fiume Belice e Porto Palo di Menfi con l'intervento dei vigili del fuoco e del nucleo dei sommorzatori di Palermo. Il tratto di spiaggia continua ad essere presidiato da carabinieri, vigili del fuoco e uomini della protezione civile regionale. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Sabato mattina sulla spiaggia dove si era nata l'imbarcazione sono stati trovati cinque cadaveri di migranti annegati durante lo sbarco. Dopo lo stop per il buio di sabato sera le ricerche erano riprese all'alba di ieri. Lo specchio d'acqua antistante è il luogo dove si era nata l'imbarcazione e è stato a lungo controllato da due elicotteri dell'aeronautica militare e dalla guardia costiera, dei mezzi navali, dei vigili del fuoco e della capitaneria di Porto. Secondo i superstiti mancherebbero all'appello almeno 15 persone. Nel corso delle ricerche l'equipaggio di un gommone dei vigili del fuoco è rinvenuto un giubbotto che potrebbe essere appartenuto ad uno dei migranti dello sbarco che è riuscito a raggiungere al nuoto la riva. Nelle tasche sono state trovate banconote in euro e in dinari, come conferma il funzionario del comando provinciale, Giuseppe Risalvato. Intanto si apprende che i passeggeri del natante che si è ribaltato di fronte alla costa trapanese avevano pagato 9.000 dinari per la loro drammatica attraversata e che la navigazione si è durata almeno tre giorni. Lo ha riferito all'agenzia ANSA uno dei viaggiatori, un adolescente di appena 16 anni, il quale ha rassegnato anche il terrore che il mare ha provocato in tutti loro. Ha poi aggiunto che vicino alla costa la barca si è inclinata su un fianco e che gli scafisti hanno ordinato loro di buttarsi in acqua. Non tutti però sapevano nuotare. Chi era in grado di farlo ha raggiunto la costa, altri invece non ce l'hanno fatta. Il sedicenne è uno dei migranti sopravvissuti, uno dei tredici fermati a Selenunte, adesso ospite del centro di prima accoglienza di Casselvetrano gestito dalla Croce Rossa. Ma la prossima loro tappa sarà il centro di Milo a Trapani per l'identificazione, mentre altri 23 migranti sono state rientracciate a Portopalo di Menfi, già trasferite nella tenso struttura di Port Empedocle. Dopo lo sbarco di fortuna hanno cominciato tutti a girovagare sulle strade, raggiungendo i centri abitati. Continua a ricevere conferma la notizia che a bordo di quel natante c'erano una sessantina di persone che per 72 ore non hanno mai né mangiato né bevuto. Le testimonianze riferiscono che nessuno dei passeggeri ha subito violenza. A bordo c'erano uomini, donne e ragazzi. La polizia sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Chi non ha compiuto ancora 18 anni sarà trasferito in una comunità alloggio per minori. Cambiamo argomento. Continuano i preparativi in vista della manifestazione di protesta per l'ospedale di Sciacca in programma il 10 novembre. Nelle scorse ore si è appreso che per i servizi di ortopedia e cardiologia il Giovanni Paolo II è tra i non socomi più apprezzati in Italia. E' questo un motivo in più per rivendicare un riconoscimento di dignità e di rispetto della norma approvata nel 2019, quello che qualifica l'ospedale di Sciacca come un ospedale DEA di primo livello. Ne parliamo nel servizio. E' senza ombra di dubbio una bellissima notizia che l'ospedale Giovanni Paolo II si è stato annoverato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari tra i primi 10 nosocomi italiani per gli interventi al femore e addirittura al sesto posto per la tempestività nella cura dell'infarto. Si potrebbe dire che, malgrado le gravissime criticità dall'emodinamica, dove è disponibile solo una delle due sale, all'ortopedia sostanzialmente senza medici, il cui primario è stato chiamato a garantire anche la direzione ad Agrigento, i riconoscimenti confermano in ogni caso quanto il personale sanitario disponibile sia pronto a mettere in pratica il giuramento di Ippocrate. Ma si sa, la qualità dell'assistenza sanitaria per sua natura non è certamente un concorso di bellezza. La situazione generale relativa all'ospedale di Sciacca rimane naturalmente assai critica, non è un'opinione, lo conferma la decisione della stessa opposizione politica comunicata sabato mattina durante la conferenza stampa sul bilancio ad essere presente il 10 novembre alla manifestazione di protesta promossa da 19 sindaci del comprensorio, oltre che naturalmente dal comitato civico per la sanità, indifferenti evidentemente alle rispettive collocazioni politiche. Un ospedale che nel 2019, quindi quattro anni fa, è stato dichiarato dea di primo livello per gli interventi di emergenza e urgenza, una qualifica possibile anche in presenza di una stroke unit per gli interventi urgenti per gli ictus cerebrali. Da allora però non sono mai stati espletati i concorsi per i neurologi e la stroke unit continua a non essere disponibile, dunque il dea di primo livello è una qualifica soltanto sulla carta. Una situazione è quella delle politiche sanitarie che vede la regione siciliana in gravi difficoltà, con una gestione generale dove la mobilità passiva, i cittadini che preferiscono recarsi in ospedali pubblici al di fuori della Sicilia, continua purtroppo ad aumentare. La sempre complicata disponibilità di personale medico è certificata anche sul piano delle stesse tendenze. Tra il 2018 e il 2020, per fare un esempio, stiamo parlando dunque prima del Covid, il numero di medici impiegato negli ospedali agrigentini è calato, mentre è aumentato il numero di impiegati amministrativi. Non c'è dubbio che il problema lamentato per l'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dai sindaci e dalle associazioni civiche che hanno organizzato la manifestazione di protesta di venerdì 10 novembre abbia una diffusione regionale e nazionale. Allo stesso modo, tuttavia, non c'è alcun dubbio circa il fatto che non è attraverso la mobilità tra i cinque ospedali provinciali che le sempre minori risorse umane disponibili sono chiamate ad osservare, potrà essere possibile riuscire a soddisfare le necessità sempre crescenti della popolazione. E infine, diciamocela tutta, quel disegno di legge Pastrocche uscito tre settimane fa dalle stanze dell'assessorato regionale alla salute, che l'assessore Giovanna Volosi è poi affrettata a definire ipotesi di studio non ufficiale, è però piuttosto indicativo di quanto il territorio di Sciacca conti sempre meno negli approcci della politica regionale e naturalmente dell'annessa burocrazia. Il declassamento da DEA ad ospedale di base grida letteralmente vendetta. Insomma, come si dice in questi casi, bisogna tenere gli occhi aperti e questo, anche se non è facile, l'iniziativa del 10 novembre ha valore simbolico, ma soprattutto di concretezza per ribadire nei confronti dei centri decisionali che l'attuale organizzazione sanitaria e la situazione in cui si trova l'ospedale di Sciacca non vanno certamente bene. Nuovo attacco all'amministrazione comunale guidata da Matteo Ruvola Ribera, che da circa un anno ha perso importanti componenti della maggioranza e si trova in consiglio comunale ad avere il sostegno solo di cinque consiglieri. A scendere in campo e tornare alla carica sono stati i parlamentari regionali la Rocca Ruvola e Gallo di Forza Italia, ma anche la deputata Giussi Savarino di Fratelli d'Italia, partito del sindaco Ruvolo, che replica parlando di soliti attacchi ad orologeria. Vediamo il servizio. Acque nuovamente agitate nella politica riberese con l'amministrazione guidata da Matteo Ruvolo, che già da un anno va avanti senza una maggioranza, dopo aver perso importanti i componenti della coalizione che lo aveva sostenuto alle elezioni, ma che registra anche una ferma opposizione interna al partito, cui è aderito Fratelli d'Italia. A tornare alla carica è stato il partito di Forza Italia, con i parlamentari regionali Margherita la Rocca Ruvola e Riccardo Gallo, che sabato scorso hanno diramato un comunicato stampa, nel quale hanno parlato di città abbandonata a se stessa e di amministrazione comunale assente, senza progettazione e programmazione. Dopo aver preso le distanze dal sindaco già da diversi mesi, adesso Margherita la Rocca Ruvola e Riccardo Gallo, rispettivamente commissario provinciale e vice commissario regionale di Forza Italia, si rivolgono agli alleati, proponendo di avviare un confronto per lavorare tutti insieme per il rilancio turistico, sociale ed economico di Ribera, partendo dal miglioramento dei servizi essenziali. Occorre prendere coscienza, hanno aggiunto che l'interlocutore non può essere l'uomo solo al comando, ma la città e il suo patrimonio umano e culturale. Un intervento, quello dei parlamentari di Forza Italia, è arrivato a pochi giorni, peraltro dalla decisione della consigliera Enza Mulè di lasciare il partito e dichiararsi indipendente. È la via più facile davanti ad una scelta già fatta ma taciuta per diversi mesi, hanno commentato la Rocca Ruvola e Gallo. Intanto la proposta di un tavolo di confronto tra le forze politiche che hanno preso le distanze dal sindaco Ruvolo è stata immediatamente recepita anche dalla parlamentare regionale di Fratelli d'Italia, Giussi Savarino, che dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dai colleghi forzisti e si dice pronta al confronto, condiviso anche dall'assessore Roberto Di Mauro. Parlamentari agrigentini del centrodestra pronti dunque a quello che prospettano come un lavoro sinergico per il rilancio della città di Ribera, anche se al momento non si registrano analoghe forti prese di posizione da parte del deputato riberese e capogruppo della DC Carmelo Pace, la cui componente è stata alternativa a Matteo Ruvolo sin dalla prima ora. Le critiche maggiori arrivano infatti dagli ex alleati del sindaco di Ribera e anche da una considerevole componente del suo partito, Fratelli d'Italia. In cosa sforcerà questo confronto ancora non è chiaro, ma Matteo Ruvolo non ha perso tempo e convemenza, ha replicato in particolare i due deputati forzisti, parlando di soliti interventi ad orologeria da parte di chi, spesso assente e lontano dal territorio, si interessa di Ribera solo quando succede qualcosa che turba la loro parte politica. E' riferimento chiaramente alla decisione della consigliera Mulè di lasciare Forza Italia. Di più Matteo Ruvolo sostiene che ha di influire nella considerazione dei due deputati sulla sua amministrazione e anche la decisione da lui maturata tempo fa di aderire a Fratelli d'Italia dopo aver militato in Forza Italia. Un passaggio che evidentemente aggiunge non è stato ancora digerito. Sindaco che rispetto all'etichetta di uomo solo al comando rivendica poi il tentativo da lui respinto fatto da forze politiche che erano interessate, dice, solo a discutere di incariche sessoriali. In questo anno registrato solo atteggiamenti dettati dal rancore e dalla fazziosità, ha concluso il sindaco di Ribera rivolgendosi agli ex alleati. Un intervento, quello di Matteo Ruvolo, destinato sicuramente ad aumentare le tensioni politiche a Ribera dove l'amministrazione va avanti, potendo contare al momento sul sostegno di soli cinque consiglieri comunali. È Giuseppe Miglioti, già commissario del partito Asciacca, il coordinatore cittadino della democrazia cristiana. Un partito che si colloca all'opposizione dell'amministrazione comunale, ma un'opposizione costruttiva di Chiara Miglioti, come dimostrato con la recente approvazione del bilancio. Servizio. Dopo il congresso provinciale va avanti l'organizzazione della DC nei vari comuni agrigentini e oggi è stata ufficializzata la nomina a coordinatore cittadino di Giuseppe Miglioti, già commissario del partito Asciacca. La mia nomina a coordinatore della democrazia cristiana rappresenta, diciamo, da parte dei leader nazionali, regionali e provinciali, un'attenzione particolare verso la nostra comunità. Io ho accettato con grande entusiasmo, lo stesso entusiasmo che oggi riscontro in questo partito nel coinvolgimento di uomini, donne e giovani che facilmente hanno approdato per un motivo che io professo da tempo, che è quello della riduzione delle distanze tra i cittadini e i partiti con cui ritengo giusto sia far politica. Democrazia cristiana che è in Consiglio Comunale attualmente rappresentata da 5 consiglieri con l'obiettivo di crescere ulteriormente la propria rappresentanza in Aula Falcone Borsellino. Già, diciamo, il gruppo consigliare che ringrazio per il lavoro fatto in questo anno in Consiglio Comunale perché hanno guardato sempre a quello che può essere l'interesse del cittadino insieme a tutte le forze politiche di opposizione ed è dimostrato dal bilancio già approvato, diverse sono le situazioni e tutti gli emendamenti fatti che guardano all'interesse dei nostri con cittadini e alla crescita del territorio. Il nostro obiettivo è quello di crescere sempre, crescere con qualità, crescere accorpando anche giovani e persone che hanno nella loro testa l'interesse del cittadino e soprattutto quello di risolvere i problemi che la comunità saccense ha. Io in questa nuova esperienza ho girato diverse città più piccole e di sciacca, forse anche per questo, dove c'è molto senso di comunità. Un senso di comunità che purtroppo nel nostro territorio, nella nostra sciacca, manca da troppo tempo ed è questo che vuole fare la democrazia cristiana, riuscire a riscoprire quel senso di comunità importante per la crescita culturale, sociale ed economica della nostra città. Il vostro è un partito all'opposizione dell'amministrazione comunale, sia in attesa dell'esito di questo ricorso, ma indipendentemente da quello che sarà l'esito, il vostro obiettivo, qual è la vostra opposizione e quale sarà? La nostra opposizione, già l'ho detto poco anzi, sarà un'opposizione costruttiva e tutti i consiglieri, così come hanno fatto, valuteranno gli atti che riportano ciò che può rappresentare la crescita della nostra città. Senta, ma è fantapolitica pensare o ipotizzare un sostegno da parte dell'ADC all'aggiunta a termine? Non immediato chiaramente, mancano ancora quattro anni. Attualmente non ci sono le condizioni e siamo distinti e distanti sia dall'amministrazione che da eventuali condizionamenti di ricorsi che devono essere vinti o non, questo poi si vedrà. La democrazia cristiana lavorerà all'interno del Consiglio Comunale valutando quale sia l'interesse della città. È chiaro che per costruire una alternativa devi colloquare con tutte le forze politiche presenti in opposizione e io spero che l'ADC possa essere forza aggregante per il futuro. Ritorniamo in studio e ci occupiamo di mercato ittico. Anche Lega Coop contesta il bando per l'affidamento in gestione del mercato ittico di Sciacca pubblicato dal Comune nelle scorse settimane. Lega Coop Sicilia, quale associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e dei pescatori associati in cooperativa che costituiscono una parte fondamentale della marianieria saccense, ritiene che sia necessario sospendere la procedura per l'affidamento del mercato ittico in autotutela. Se completata, dichiara il coordinatore Domenico Pistone, causerebbe un danno alla marineria di Sciacca. Lega Coop contesta quanto previsto dall'avviso pubblico, ossia che qualunque soggetto attraverso la procedura della migliore offerta e senza requisiti di competenze e solidità finanziaria può aggiudicarsi la struttura, trasformando un'autentica opportunità di crescita per la marineria saccense in un generico punto vendita vista l'assenza nel bando di alcun richiamo alla normativa che regola i mercati ittici. Sulla vicenda, come si ricorderà, l'Associazione Generale delle Cooperative si è rivolta al prefetto di Agrigento. Oggi pomeriggio il bando pubblicato dal Comune per l'affidamento in gestione del mercato ittico all'esame della Commissione Consigliere di Attività Produttiva, preseduta dal consigliere Raimondo Brucculeri. Grande afflusso al cimitero di Sciacca già dalla giornata di ieri in vista della ricorrenza del 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti. Cimitero dove è stato effettuato un intervento di scerbature e da dove da circa un mese la pulizia viene effettuata ogni settimana, collocati in oltre 70 carrellati, grandi contenitori per agevolare e migliorare il conferimento dei rifiuti. Si prova insomma a garantire un maggiore decoro dell'area cimiteriale, spesso finita al centro delle polemiche e delle segnalazioni dei cittadini per lo stato di degrado e abbandono. Ne parliamo nel servizio. Sono giorni di preparazione alla ricorrenza del 2 novembre, commemorazione dei defunti. Complici, le temperature ancora quasi estive, l'afflusso al cimitero di Sciacca è iniziato già nella giornata di ieri ed è proseguito anche oggi. È un momento assai sentito dalla comunità saccense ma anche negli altri comuni. Cimitero di Sciacca che è stato interessato da un intervento di scerbature e da una pulizia che da circa un mese viene effettuata settimanalmente. All'interno del cimitero sono stati inoltre collocati circa 70 carrellati, ossia dei grandi contenitori muniti di ruote, il cui obiettivo è quello di agevolare e migliorare il conferimento dei rifiuti. Si prova insomma a garantire un certo decoro all'area cimiteriale, troppo spessa finita al centro di polemiche e segnalazioni da parte dei cittadini che in diverse occasioni hanno denunciato lo stato di degrado ed abbandono. Sempre al fine di garantire una maggiore pulizia è in vigore ormai da un anno l'ordinanza che ha istituito il divieto di introduzione all'interno del cimitero di confezioni di plastica non biodegradabili per i fiori freschi e che mira anche ad un corretto smaltimento dei fiori finti e dei lumini votivi. Un provvedimento che ha istituito divieti sia per i commercianti sia per i cittadini. In attesa di capire se anche quest'anno verrà garantita per l'1 e il 2 novembre l'apertura straordinaria, il cimitero in ogni caso in questi giorni è aperto anche di pomeriggio per via di tanti cantieri in corso per la sistemazione di loculi e cappelle. Sul fronte della viabilità, dallo scorso 28 ottobre fino al prossimo 2 novembre, la zona sarà interessata dalle disposizioni contenute nell'ordinanza che disciplina il traffico e che ha istituito il divieto di sosta a Muelati nella via Sant'Agata dei Goti, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via De Gasperi e l'ingresso secondario del ristorante Le Gourmet, a monte della via delle Gardenie, nella strada di entrata al parcheggio cimiteriale lato nord, nel tratto compreso tra via Cava dei Tirreni e l'entrata al medesimo parcheggio e sempre nella via Cava dei Tirreni, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Montecronio e l'entrata al parcheggio cimiteriale. Istituito inoltre il senso unico di circolazione nella via De Gasperi, nel tratto compreso tra via delle Gardenie e via Montella, nel senso di marcia che dalla periferia conduce al centro città, il divieto di sosta nel lato sinistro di via delle Begonie e nel lato destro di via De Gasperi con direzione di marcia centro città. Si sono svolti stamattina nella chiesa dei Cappuccini i funerali di Gianni Napoli, storico portiere di Cronion e Sciacca negli anni 60 e negli anni 90, allenatore per un paio di campionati di eccellenza della formazione verde-nero. Napoli è stato un protagonista della vita sportiva saccenza, palermitano di nascita si era sposato con una saccenza e Sciacca ha costruito la sua famiglia per poi tornare a vivere a Palermo, dove aveva trovato lavoro, ai familiari le più sentite condoianze della nostra emittente. Vediamo un attimo il palinsesto della nostra programmazione, andrà in onda oggi al termine di tutta l'edizione del nostro Tg, uno speciale RMK Notizia dedicato all'inaugurazione a Menfi dello sportello antiviolenza intitolato a Marisa Leo, la donna di 39 anni di Salemi, uccisa lo scorso settembre dall'ex compagno. Anche a Villa Franca Sicula è stata inaugurata la nuova area fitness ricavata all'interno della villa comunale. Si tratta di uno spazio aggregativo, la cui realizzazione è stata finanziata tramite fondi del PNRR per circa 30.000 euro. Potenzieremo la videosorveglianza nella zona per scoraggiare gli atti vandalici, ha affermato il sindaco Gaetano Bruccoleri. Vediamo il servizio. Anche il comune di Villa Franca Sicula ha inaugurato lo scorso sabato pomeriggio il nuovo percorso fitness che è stato collocato e ricavato all'interno della locale villa comunale. Una iniziativa che è stata seguita dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Bruccoleri, che ha potuto beneficiare di un finanziamento di 28.500 euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura del Dipartimento per lo Sport relativa alla terza linea di intervento. Nelle settimane scorse una iniziativa simile era stata già inaugurata anche a Santo Stefano Quisquina. All'inaugurazione ha presenziato ovviamente l'amministrazione comunale, i cittadini e il nuovo parroco della comunità Don Davide della Corte. L'intera area prospicente alla villa comunale, dichiara il sindaco Gaetano Bruccoleri, è già videosorvegliata, ma verrà dotata di ulteriori telecamere allo scopo appunto di individuare eventuali atti vandalici e scoraggiare altre trasgressioni punibili dalla legge. I lavori di collocazione degli attrezzi sono stati realizzati con il supporto di alcuni cittadini che, in modo gratuito, hanno collaborato all'iniziativa. In particolar modo Nino e Andrea Radosta, che si sono occupati della messa a terra degli attrezzi e dei lavori di muratura, è Antonino Giambrone che invece ha eseguito i lavori relativi allo scavo e alla copertura degli scavi col proprio automezzo. L'inaugurazione si è chiusa con un momento conviviale. La realizzazione di questa area fitness a Villa Franca Sicula è sicuramente un modo per andare incontro alle nuove tendenze che vedono una crescente volontà delle persone, soprattutto dei giovani, di fare sport sano e all'aperto. Un progetto interessante che continua nel filone della valorizzazione del territorio in un ambiente idoneo per bambini, giovani e adulti. Un modo per potenziare gli spazi pubblici di aggregazione, spingere alla socializzazione e valorizzazione delle aree in questione. È iniziata al Teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia una nuova stagione teatrale 2023-2024, la prima sotto la nuova amministrazione comunale guidata da Giuseppe Cacioppo. Quello proposto ieri sera è stato uno spettacolo molto divertente a base di musica e gag. Il servizio di Massimo D'Antoni. Applausi a scena aperta ieri sera al Teatro Comunale L'Idea di Sambuca di Sicilia dove si è aperta la stagione teatrale 2023-2024 con uno spettacolo divertentissimo. Ad esibirsi è stato il trio Trioche con troppe aree e concerto comico per voce, musica e gag che ha trascinato gli spettatori non aggirando la musicale del repertorio classico e sinfonico trasformato in efficace gioco scenico tra l'arguzia dei frizzi, la mimica dei lazzi con uno stile clonesco tipico degli artisti da strada. Al centro del palcoscenico la straordinaria capacità musicale dei tre artisti sulla scena Nicanor Cancelleri, musicista italo-argentino diplomato in flauto attraverso il Conservatorio di Firenze Irene Geninatti Chiolero, attrice diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica di Milano bravissima cantante lirica e Franca Pampaloni, bravissima pianista anche lei diplomata al Conservatorio ma in quello di Padova ieri in scena è con una vistosa parrucca bianca. Per la prima di ieri sera il sindaco Giuseppe Cacioppa ha invitato i sindaci del comprensorio. Dobbiamo dire che il teatro di Sambuca nel tempo ha guadagnato spazio, ha guadagnato territorio si sta intestando in quello che è il teatro della comunità non solo il teatro di Sambuca ma il teatro del Belice stasera abbiamo abbonati da Sciacca, da Menzi, da Castelvetrano da Campobello di Manzara, da Giuliana, da Contessa Entellina, da Bisacquino tra l'altro stasera avendo anche la prima ci sono i sindaci del territorio che insieme a noi festeggiano e con noi insieme alle comunità che rappresentiamo. E di recente nomine il nuovo CDA del teatro Presidente Antonio Giovinco Il teatro di idea è stato sempre un punto di riferimento per tutta la Valle del Belice e vogliamo continuare ad imprimere ancora con più tenagia e fermezza dell'impronta culturale e con questa nuova stagione vogliamo essere il teatro del Belice quindi aperto ai paesi vicini Santa Margherita, Menfi, Montevago ma la stessa Sciacca, Castelvetrano quest'anno abbiamo tantissimi abbonamenti proprio da questi paesi e noi ne siamo veramente contenti. Gli altri componenti del CDA sono Concetta Montalbano Filippo Tardo, Francesca Di Miceli e Clarissa Ferina la direzione artistica è stata affidata a Costanza Amodeo puntiamo su un cartellone molto misto che si muove tra una stella polare e una croce del sud tradizione e innovazione è in mezzo il presente che è il nostro tempo contemporaneo ed è un teatro che si presenza con tutta la sua forza espressiva musica, prosa, commedia, dramma, maschere, mimo, clownerie chi più ne ha più ne metta diciamo che abbiamo tirato fuori tutta l'argenteria di casa nella convinzione che un bel teatro di qualità quando è arte posso sedurre speriamo di avere tanto pubblico noi ci siamo e vi aspettiamo prossimo spettacolo al teatro L'idea di Sambuca l'anno che verrà il 12 novembre un concerto omaggio Lucio Dalla con Peppe Servillo Avier Girotto e Natalio Manglavite Sciacca Poesia la biblioteca comunale Aurelio Cassar lancia un concorso di poesia in lingua italiana e in lingua siciliana un'iniziativa culturale evidenzia l'assessore alla cultura Salvatore Mannino che abbiamo voluto dedicare a due tra i più illustri figli e interpreti della nostra città i poeti Vincenzo Licata e Ignazio Russo il bando del concorso Sciacca Poesia è stato pubblicato oggi nella pagina avvisi del sito internet istituzionale del comune di Sciacca e nello spazio virtuale della biblioteca Aurelio Cassar due le categorie previste adulti e giovani per ogni categoria sono previste due sezioni poesia in lingua italiana e poesia in lingua siciliana la scadenza per l'invio degli elaborati è stata fissata per il 10 gennaio 2024 l'iniziativa si propone diversi obiettivi tra questi far conoscere e apprezzare le figure e l'opera dei grandi poeti saccensi appunto Vincenzo Licata e Ignazio Russo coinvolgendo i giovani e gli istituti di istruzione e di cultura promuovere la cultura l'espressione artistica la socialità la scrittura poetica promuovere la città di Sciacca e la poesia del suo paesaggio immerso nella natura nell'arte nella creatività nella storia dare anche un contributo ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 progetto che vede coinvolto anche il comune di Sciacca ha festeggiato il secolo di vita la signora saccense Antonia Ciaccio vedova Cirafisi a questo momento si riferisce la foto che vi proponiamo madre di due figli Antonio e Michele la signora è la più piccola di cinque figli il segreto della sua longevità dieta mediterranea e regolari passeggiate casalinghe alla signora Ciaccio Cirafisi gli auguri di buon compleanno da parte della nostra emittente e complimenti per la forma centocinquantesimo anniversario di fondazione della congregazione delle figlie della carità del preziosissimo sangue sabato scorso è sciacca festeggiamenti culminati poi con una santa messa in chiesa madre preseduta dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano presenti oltre alle suore che in città operano all'interno dell'ospedale e alla casa di riposo di Porta Palermo anche le autorità cittadine vediamo conclusi alla Basilica Maria Santissima del soccorso di Sciacca e festeggiamenti del centocinquantesimo anniversario di fondazione della congregazione delle figlie della carità del preziosissimo sangue che in città vede le proprie rappresentanti nelle suore che operano all'ospedale Giovanni Paolo II e alla casa di riposo di Porta Palermo dopo tre giorni di preghiere di preparazione presso la chiesa di San Domenico ieri è stata celebrata dall'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano la santa messa conclusiva in chiesa madre ad accogliere arcivescovo le suore della congregazione le autorità cittadine e i fedeli è stato l'arciprete di Sciacca Don Giuseppe Marciante è il 150esimo anniversario delle suore della carità del preziosissimo sangue fondate da Beato Tommaso Maria Fusco siamo tutti qui in cielo e gli do benvenuto non solo a lei pastore della chiesa Cricentina perché in questa festa non poteva mancare il pastore ecco perché la comunità delle suore della carità che operano all'ospedale da tantissimi anni e anche la casa di riposo a Porta Palermo hanno avuto questa gioia oggi di vedere tutta la città anche le autorità civile per l'Italia che saluto con tutto il cuore con tanto affetto siamo tutti per celebrare questa festa attorno all'altà vogliamo fare assemblea eucaristica vogliamo fare esperienza sinodale vogliamo rinnovare il nostro impegno per ricordarci come Beato Tommaso Maria Fusco è stato un grande apostolo della carità e come oggi vogliamo anche ricordare il giudice elevatino che 33 anni fa veniva ucciso per essere l'uomo della carità e l'uomo del servizio al popolo noi vogliamo rinnovare il nostro impegno a servire il Signore con tanta fede e con tanta speranza grazie eccellenza per la sua presenza un momento importante per le figlie della carità del preziosissimo sangue a cui non poteva mancare il rappresentante della chiesa grigentina 150 anni li portate bene mi sembra certo sappiamo bene tutti che questo giorno di festa il giorno di festa porta con sé un velo dimestizia considerato quello che sta accadendo in Palestina in Israele insieme ahimè alle tante altre guerre che ci sono nel mondo si è svolto sabato mattina all'interno dell'agio superiore del comune di Sciacca un interessante spettacolo dal titolo Dante va a scuola vediamo di cosa si è trattato nel mezzo nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita Dante va a scuola questo è il titolo dello spettacolo organizzato dall'istituto di istruzione secondaria e superiore Tommaso Fazzello che è andato in scena sabato mattina nell'atrio superiore del palazzo municipale di Sciacca uno spettacolo calato all'interno di un progetto rivolto alle classi terze del liceo classico del liceo artistico Giuseppe Bonachia si tratta di un appendice dell'ormai famoso progetto Dante in Sicania che il professore Giampaolo Renello ha rappresentato con successo durante l'estate in vari siti dell'Agrigentino sabato scorso Renello accompagnato dal maestro Francesco Pusateri violoncellista ha declamato il primo e il quinto canto dell'inferno preceduti da aneddoti storie e curiosità che hanno interessato agli studenti e agli spettatori presenti Perché Dante in Sicania? Dante in Sicilia in realtà perché Dante e la Sicilia hanno più legami di quanto normalmente si pensi ma basta solo dire per dire che nella divulgare eloquenza l'altra lingua che poteva competere col fiorentino come lingua diciamo letteraria era proprio il siciliano più che altre lingue che ne sono il milanese il lombardo il veneto era il siciliano perché anche lì c'era una tradizione culturale forte cioè la lirica italiana aveva preso le mosse proprio con i siciliani e questo a Firenze Dante non poteva certamente ignorarlo tutt'altro perché li cita esplicitamente nel De Volgari Non una lezione ma un viaggio nei luoghi nella storia del sommo poeta trasferito da pochi anni in Sicilia il professore Renello per la prima volta a Sciacca ha deciso di abitare a Santo Stefano Quisquina dopo una parentesi ad Alessandria della Rocca rimanendo meravigliato dalla bellezza dei luoghi dall'organizzazione dell'evento da parte dell'Istituto Fazello del neo dirigente ingegnere Leonardo Mangiaracina perché sono venuto qui io potrei sembrare un immigrato al contrario perché dal mio dal mio accento si pensa facilmente che io sia del nord io non sono del nord nel senso che non sono nato a nord perché sono nato a Roma però sono vissuto a nord e mi sono laureato a Pavia perché la mia famiglia per lavoro si trovava a nord ma intanto mia madre non era nemmeno italiana quindi già a metà di me ha perso un po' di italianità e mio padre era addirittura friulano quindi in questo senso sono virgolette nordico ma io sono nato a Roma e ho vissuto a lungo a Roma e poi ho vissuto a Napoli perché insegnando l'università di Salerno la stavo dopodiché mi sono come dire mi sono tolto dall'università per ragioni mie personali e sono venuto a vivere prima a Siracusa e poi ho preferito la Sicaglia perché a me piace di più l'entroterra che non la costa tanto la costa ci posso andare sempre l'entroterra è più difficile la manifestazione ha avuto il patrocino del comune di Sciacca che ha dato la disponibilità del meraviglioso chiostro dell'ex collegio dei gesuiti per lo svolgimento dell'evento c'erano anche gli scrittori saccensi Stefano Certa e Angela Marchica autori del libro Leopardi e il suo mondo all'incontro dei giorni scorsi a Recanati tra importanti studiosi leopardiani provenienti da ogni parte d'Italia il volume realizzato dai coniugi Certa è stato inoltre oggetto di studio e approfondimento per gli studenti del liceo classico Leopardi di Recanati un lavoro che continua a suscitare interesse e grande attenzione ne parliamo nel servizio c'erano anche gli scrittori saccensi Stefano Certa e Angela Marchica all'incontro tra studiosi leopardiani provenienti da varie parti d'Italia che si è svolto nei giorni scorsi a Recanati la città che ha dato i Natali al celebre poeta dell'Ottocento i coniugi Certa sono gli autori del libro realizzato lo scorso anno al termine di una certosina attività di studio e ricerca dal titolo Leopardi e il suo mondo un lavoro incentrato non sul pensiero di Leopardi ma sugli aspetti poco conosciuti della sua vita professore Certa possiamo dire che grazie al vostro lavoro su Leopardi ormai siete entrati a far parte a tutti gli effetti di una rete di studiosi leopardiani e di qualche giorno fa la vostra partecipazione a Recanati ad un incontro cui hanno preso parte molti studiosi Sì è vero siamo stati a Recanati abbiamo partecipato a questa importante riunione abbiamo conosciuto molti studiosi e credo che sia veramente un risultato ottenuto sul campo meritatamente grazie al nostro lavoro e al nostro impegno perché avevamo dei dubbi non sapevamo a chi rivolgerci abbiamo mandato un'email a una delle più importanti studiosi leopardiane che ci ha risposto ci ha mandato un'email e ci ha dato delle indicazioni che abbiamo chiarito poi abbiamo parlato di qualche altra cosa tipo l'altezza di Leopardi molti danno tra un metro e quaranta e un metro e quarantacinque un importante scrittore addirittura diceva è alto un metro e quarantuno ma da dove attingono questi risultati noi non lo sappiamo noi abbiamo pure letto abbiamo il 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 verbale della ricognizione del rete fatto dal dottore Zuccarelli e Leopardi era contenuto in una cassa lungo un metro e quarantatré e all'interno un metro e trentatré quindi ci è sembrata noi abbiamo invece avanzato detto che poteva essere tra un metro e quarantasette un metro massimo cinquantadue le ha voluto mandare queste deduzioni gliel'abbiamo mandata e è rimasto convinta poi abbiamo fatto un'osservazione su quello che diceva un notaio Anselme e abbiamo fatto questa osservazione evidentemente abbiamo guadagnato la sua stima e ritenuto opportuno bonda sua invitarci a questa importante riunione a Recanati Nel frattempo i vostri studi e le vostre ricerche non si fermano cosa c'è di nuovo che avete recentemente scoperto su Leopardi ricordiamo che voi andate alla ricerca di aspetti della vita di Leopardi che nessuno conosce Sì siamo riusciti ad ottenere i file di tre ritratti di Giacomo Leopardi molto importanti perché lo ritraggono in vita l'unico ritratto in vita che si conosceva di Leopardi era quello di Luigi Lolli che avevano fatto a Bologna poi nel 1990 si è scoperto un altro ritratto fatto da Biagio Martini però lui l'ha un po' rubato perché l'ha fatto questo disegno di profilo all'insaputa di Giacomo Leopardi mentre questi tre lo ritraggono consapevoli di essere il ritratto sempre a Recanati Leopardi e il suo mondo è stato al centro di un incontro tra gli autori del libro e gli studenti del liceo classico Giacomo Leopardi è stata come sempre una bellissima esperienza perché avere il contatto con i ragazzi per noi è sempre fonte di gioia tra le altre cose al liceo avevano avuto qualche problema di organizzazione e quindi abbiamo presentato il libro di Giacomo Leopardi in classe nelle classi quindi proprio quell'ambiente raccolto i ragazzi tutti che ti guardano e tu che puoi guardare tutti è stata veramente un'esperienza molto bella fra l'altro li abbiamo trovati molto incuriositi perché a di là del fatto che poi hanno saputo che noi siamo laureati in matematica erano incuriositi dal fatto che non andavamo a parlare di Giacomo Leopardi il poeta il pensatore il filosofo parlavamo proprio di Giacomo di un ragazzo molto giovane d'altra parte che come loro cercava di farsi strada nella vita e avere mostrato le immagini di Leopardi com'era si è pure filtrato alla sensibilità diciamo dell'artista com'era Leopardi all'età di 28 30 anni perché più o meno i ritratti si riferiscono a quel periodo e li ha molto incuriositi molto non lo so un'attenzione proprio palpabile e a proposito di libri vediamo quali suggeriamo da leggere nella nostra rubrica Sicilia 1943 Paolino Rasura ha 7 anni per sfuggire alle prepotenze di un gruppo di ragazzini accetta di fare una prova di coraggio entrare nel giardino di Filippo un uomo che vive isolato su una collina e passa il tempo a scolpire teste Paolino e Filippo così si conosceranno e il vecchio diventerà per il bambino amico e consigliere negli anni complessi che vanno dallo sbarco degli americani fino alle prime lotte per le terre intorno a loro si muove il paese di Santa Farra un'intera comunità fatta di antichi segreti rivalità spinte al cambiamento e riti sempre uguali nei quattro anni che lo trasformano da bambino a ragazzo Paolino sempre in bilico fra la viltà e desiderio del riscatto conoscerà il tradimento la morte l'amore Pelleossa di Veronica Galletta edito Minimum Fax Calcio torna alla vittoria l'unità Seshacca che ha superato per 3 a 1 al Gurrera il super giovane Castelbuono reti decisive di Concialdi Secan e Iraci tre dei pezzi pregiati del mercato estivo nero verde la partita si è disputata a porte chiuse senza tifosi dopo i fatti avvenuti domenica scorsa a Castelvetrano a seguito dell'incontro contro la Folgore nero verdi che in questo momento distano appena due punti dalla zona playoff e c'è il servizio vittoria importante per l'unità Seshacca che ha superato per 3 a 1 il super giovane Castelbuono partita valevole per l'ottava giornata del campionato di eccellenza a girone A tre punti fondamentali per i nero verdi in vista della rincorsa per la zona playoff che in questo momento dista appena due punti come è noto il match si è giocato a porte chiuse dopo i fatti avvenuti domenica scorsa a Castelvetrano a seguito della partita contro la Folgore il tecnico Davide Boncore ancora una volta ha deciso di rinunciare dall'inizio sia a Balistredi sia a Sant'Angelo puntando davanti su Secan Ricciardello e i Raci dopo un buon inizio di partita a sorpresa gli ospiti vanno in vantaggio al trentasesimo minuto grazie a Belecco lesto a sfruttare una clamorosa disattenzione della difesa saccense su azione successiva ad una rimessa laterale sale ovviamente la tensione ma a fine primo tempo la partita cambia radicalmente prima il pareggio al quarantacinquesimo sul calcio di rigore con Concialdi penalti assegnato per atterramento di Ricciardello un rigore molto contestato dai giocatori e dai dirigenti del Castelbuono in pieno recupero sul finire del primo tempo gli ospiti rimangono in dieci uomini a causa dell'espulsione del portiere Fagone reo di aver colpito il pallone con le mani fuori dall'area di rigore un minuto dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa decisivo di Sekan che ha permesso a Nero Verdi di chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco all'inizio della ripresa dopo appena 4 minuti la terza rete dei padroni di casa di Iraci con un forte diagonale dal vertice destro della rete di rigore da lì in poi ovviamente la partita è stata in discesa fino alla fine con i Nero Verdi che hanno abbadato soprattutto a gestire l'incontro senza correre rischi di alcun tipo un unico appunto sul gol subito ha affermato il tecnico Boncore al termine dei 90 minuti a parte questo sono pienamente soddisfatto del rendimento della squadra l'Unitas di Sciacca adesso ha 11 punti in classifica e si prepara per il prossimo impegno in campionato in trasferta contro l'USD Mazzara trasferte positive per la società Ippon Karate Lentini e Karate Judo Club di Sciacca il suo dalizio di Piero e Marco Lentini ha conquistato due podi al prestigioso Open Monferrato di Kumite a Casale Monferrato mentre il club del maestro Pippo Piazza ha vinto il Gran Premio Regionale Giovanissimi di Judo portando a casa il primo posto di società ne parliamo nel servizio ancora una trasferta nazionale per la Ippon Karate Lentini di Sciacca presente alla manifestazione denominata Open Monferrato 2023 che si è tenuta a Casale Monferrato presso il Pala Ferraris la società di Piero e Marco Lentini come sempre è stata protagonista nell'ambito delle gare di Kumite maschile e femminile questi i risultati due Ippodi conquistati Irene Marturano Argento nella categoria Under 21 ed Emma Colletti Bronzo nella categoria Junior Nicolò Alfano quinto posto tra gli Uner Carla Cascioferro e Giovanni Sicola in settima posizione tra gli Under 14 niente da fare invece per i restanti atleti presenti alla trasferta ossia Andrea Danna Calogero Torturici Virginia Arcilesi Gioia Gulotta e Giuseppe Gigliotta che hanno comunque potuto fare esperienza in vista dei prossimi impegni agonistici soddisfatto per i risultati ottenuti il maestro Marco Lentini che adesso preparerà il gruppo di atleti agonisti in vista dei prossimi appuntamenti regionali e nazionali ancora arti maziali ma stavolta passiamo al judo ottimi risultati a Palermo anche per la Karate Judo Club di Sciacca del maestro Pippo Piazza le atlete Virginia Monteleone e Beatrice Saladino hanno vinto nelle rispettive categorie in base al peso la terza e l'ultima tappa del torneo regionale di judo per la classe esordienti A ossia i nati nelle 2011 gara denominata precisamente Gran Premio Giovanissimi grazie a questi risultati la Karate Judo Club ha conquistato anche il primo posto di società nella classifica generale giovanile per l'anno 2023 Monteleone e Saladino sono state preparate dal maestro Pippo Piazza e dall'allenatore Alberto Catanzaro mentre sono state accompagnate a Palermo dall'istruttrice Emanuela Piazza un grande risultato che sicuramente permetterà adesso a Monteleone e Saladino di proseguire con maggiore fiducia i propri steppi di crescita sportiva ed agonistica di scobolo sciacca ai vertici dell'aerobica giovanile nazionale con la coppia formata da Enea Pifferi e Alice Ciaccio a Pomignano d'Arco nella competizione nazionale organizzata dalla società Fitness Try By con la partecipazione di oltre 20 società provenienti da tutta Italia e la presenza dei vertici della federazione i due giovani atleti di scobolo si sono classificati al terzo posto nella categoria coppia mista allievi una trasferta che ancora una volta in campo nazionale ci mette in luce commenta il tecnico Marinella Riggio si conclude il nostro telegiornale grazie ancora una volta per essere stati con noi appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti